Il treno della nuova Europa corre veloce, senza ostacoli, lungo il suo percorso. L'iter burocratico per la trasformazione di Gorizia in città metropolitana senza confini è ben avviato. Nei mesi scorsi i governi d'Italia e Slovenia hanno siglato l'accordo di collaborazione che prevede la nascita di un'unica entità territoriale, accorpando tra loro le municipalità di Gorizia, Nova Gorizia e St. Peter Vertoiba, riunendo dopo oltre 65 anni il vecchio comune Isontino, disgregato al termine dell'ultimo conflitto mondiale, cedendo i quartieri e frazioni orientali all'allora Repubblica Federativa Socialista di Yugoslavia. Oggi che la cortina di ferro non esiste più, si può tornare dove si aveva lasciato. Gorizia, città d'Europa, è molto più di un accordo. È il chilometro zero da cui partirà il rilancio di tutta la regione Friuli-Venezia-Giulia. I tempi dei sentimentalisti, irredentisti e nazionalisti lascia il passo in modo definitivo al concetto pratico di essere europei. Gorizia ritorna a quella città definita al tempo dell'imperatore Franz Josef, la Nizza della Mitteleuropa, riverdendo il glorioso fasto messo prematuramente in soffitta dopo il 1923. Questo porta a cancellare eventuali errori strategici come la grande provincia del Friuli, paventata da qualcuno, dica dal clap, senza logica e fuori anacronisticamente dai tempi moderni, come una porta aperta verso Trieste, con la quale c'è da spartire solo l'appartenenza della regione storica della Venezia-Giulia. Gorizia è sempre stata un belico del mondo friulano, slavo e miteleuropeo, basi da cui bisogna fare tesoro per ripartire verso il domani. Grazie a tutti!